Questa è una canzone invece, è un sonetto, è un sonetto di Cecco Angiolieri, un poeta medievale che scrive poesie comiche e realiste. E' un genere un po' particolare, un tipo un po' particolare, diciamo la verità, questo tare Cecco Angiolieri. E in questa poesia vuole esprimere lo sdegno nei confronti di tutti quanti, perché ce l'ha su con tutti, anzi direi soprattutto ce l'ha su con i suoi genitori. C'è su con tutti quanti, ce l'ha su con Dio, con tutti quanti gli uomini, vorrebbe essere Dio proprio per poter cacciare tutti quanti all'inferno, tutti quanti, soprattutto proprio i suoi genitori. E' una canzone che poi è stata musicata da Fabrizio Di Andrè, cioè Fabrizio Di Andrè ha letto questi versi e ha trovato grande ispirazione. Forse questi versi, infatti questa poesia medievale, ha incontrato il favore di alcuni contestatori. E' negli anni Sessanta, quando è stata fatta questa, c'era la contestazione, no? Quindi è diventata, non dico un manifesto, ma uno dei manifesti, se vogliamo, di questa contestazione. Volete sentire allora questa canzone di Fabrizio Di Andrè? Si fossi fuoco arderei il mondo, si fossi vento lo tempesterei, si fossi acqua gliel'annegherei, si fossi Dio mandere nel profondo. Se fossi papa sarei all'orgio condo, tutti i cristiani imbrigarei, si fossi impera d'orsa che farei, a tutti i mozzerei lo capo a tutto. Se fossi morto anderei da mi padre, se fossi vita fuggirei da lui, similemente faria da mi madre. Se fossi cieco come sono, torrei le donne giovani e le giatre, e vecchiel'aida e l'asserei la truì. Se fossi fuoco arderei il mondo, si fossi vento lo tempesterei, si fossi acqua gliel'annegherei, si fossi Dio mandere nel profondo. E' finita così, molto breve. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org.news A scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org